Liguori, il gol di Liguori, il vantaggio del Padova, ancora a segno Michael Liguori, un inizio pazzesco del ex Campobasso, decisivo con Vicenza, si è conquistato il rigore dell'1-0, a segno ad Alessandria, a segno questa sera contro la Propatria. Diagonale sul primo palo, Padova 1, Propatria 0, secondo gol in tre partite di Michael Liguori.